Sì, ci stiamo preparando, stiamo costruendo una società, abbiamo delle ambizioni soprattutto organizzative e di seguito ci saranno anche delle ambizioni di tipo tecnico, non abbiamo premura, prima di tutto bisogna costruire le fondamenta, al detto ci pensiamo con calma, quindi siamo tranquilli, vogliamo che gli atleti che rimangono con noi siano contenti della nuova ristrutturazione, che siano felici di sposare un progetto, chi vorrà prendere delle altre strade potrà farlo tranquillamente, d'altra parte i cambiamenti portano sempre delle problematiche, le affrontiamo serenamente e sicuramente a lunga scadenza faremo valere le nostre idee, la nostra visione del futuro della pallonoto di Busto.